dicono che sia inquietante è come l'immaginavo ti ci vedo a lavorare qui come funziona loro scompaiono e io li ritrovo come si leggono i dossier si si analizzano le indagini o mio metodo non saprei proprio come spiegarti loro ci trovo io cerchi di capire come ragionano ti immedesimi entri nelle loro teste fantastico hai parlato poi con la mamma? ti sto aiutando e come? diciamo come o metodo ah